Siamo ancora qua alla iniziativa Belli, Buoni e Bravi Insieme, concerto per la solidarietà per questa raccolta fondi di questa famiglia di barchi bisognosa e tra i buoni e i bravi ci sono stati i Ruz, qui c'è Daniele, parte della band, a presenziare con la loro musica dal vivo, rock, questa serata. Naturalmente vi ringraziamo da parte di tutta l'organizzazione di aver partecipato gratuitamente, quindi anche voi avete dato questa parte di solidarietà. Daniele, che esperienza è stata? Sarà davvero una bella esperienza mettersi a servizio con quel poco che si ha perché non siamo un gruppo di professionisti, ci piace farlo per piacere e se aggiungere al piacere c'è anche qualcosa di buono per qualcuno, penso che vado a casa molto molto contento questa sera. Esatto, tra l'altro abbiamo unito tutto il territorio questa sera perché siamo a Mondavio, voi siete di Monteporzio, la famiglia ha bisogno di barchi, c'era gente di Orciano, di Marotta, di Pesaro, quindi insomma è bello vedere che il territorio risponde assolutamente nel momento della difficoltà. Sì, io spero che questa cosa non sia una prima e ultima occasione perché tutti i comuni, che sono piccoli comuni, ci conosciamo tutti ormai un pochino e quindi quando c'è bisogno che gli altri si avvicinino ai problemi dei comuni vicini io penso che sia il futuro in questo momento. Toglieranno le province però almeno che ci siano i comuni più vicini. Esatto, che hanno anche il polso della situazione in termini di bisogno e di chi effettivamente è importante sostenere. Da parte mia ti posso dire dell'organizzazione della Locanda ai Capucini che a breve aprirà ufficialmente la sua attività restaurativa, cureremo sempre di più questo connubio e dare visibilità agli artisti del territorio, voi siete molto giovani, proprio per creare questa attrazione. Grazie ancora. A voi. Ciao a tutti. Allora, siamo qua con il portavoce dei Zona Liga Cover Band che hanno presenziato questa serata belli, buoni, bravi insieme. Concerto per la solidarietà qui alla Locanda dei Capucini a Mondavio. Quindi belli, buoni e bravi perché i ragazzi hanno suonato assolutamente gratuitamente proprio per questa raccolta fondi, per questa famiglia bisognosa di barchi che sta passando un momento di difficoltà. Allora Massi, che esperienza è stata? Guarda, quando il nostro chitarrista Ismaele ci ha proposto questa serata non ci abbiamo neanche pensato più di tanto. È stato un sì assoluto, immediato. Noi facciamo musica per divertirci. La musica, questa sera l'abbiamo dimostrato, è un aggregante, è fonte di emozioni. Quindi penso che quale situazione migliore di queste potrebbe essere adatta proprio per tirar fuori le emozioni che per noi la musica di Liga Bue porta alle persone. Assolutamente. Anche questo senso di partecipazione alla comunità, grazie anche a voi giovani che siete tutti giovani artisti, ripetiamo, sono assolutamente di tutto il territorio. Siamo adesso a Mondavio ma questa sera hanno suonato ragazzi di Orciano, di Monteporzio, di Aqualagna. Voi Massi di dove siete? Noi siamo un po' sparsi addirittura per tutta Italia perché proprio Ismaele in realtà è originario di Pavia. Trappiantato in realtà qui a fianco perché sta a Barchi, poi noi comunque delle zone di Tavuli, a Pesaro, Fano, un po' tutta la provincia rappresentiamo in questo senso. Benissimo. Allora ringraziamo ancora tutti i ragazzi che hanno partecipato con la loro musica, la loro passione, il loro talento a questa serata di belli, buoni, bravi insieme per la solidarietà. Speriamo di organizzare altre iniziative in questa direzione proprio per unire la capacità, come hai detto tu, la socialità grazie alla musica. Assolutamente. Grazie a voi. Grazie, grazie. Ha condotto tutta la kermesse dal vivo dei tre artisti, band del territorio, Nico Palombaro, che è stato coinvolto dalla mia persona a presenziare e a condurre tutta la serata. Penso che sia andato molto bene, Nico. Sono stato coinvolto dalla tua bella persona a condurre questa serata, un po' a ufficiare questa specie di rito, belli, buoni, bravi, fa un po' morricone ma l'hai chiamata, è carina come l'hai chiamata. Devo dire che ci sono stati i Malamorro che ci hanno dato delle emozioni straordinarie, stanno suonando in questo momento in zona Liga, abbiamo avuto The Roots, sono band del territorio. I Malamorro chiaramente hanno un respiro internazionale perché hanno partecipato anche a Sanremo e quindi è stato particolarmente generoso da parte di tutti intervenire a titolo gratuito questa serata. Di beneficenza per questa mission molto importante di cui tu ti occupi in prima persona, no? Esatto, esatto. Diciamo che alla presenza delle autorità, soprattutto del sindaco di Mondavio, Federico... Non so perché avete chiamato un presentatore quando avete un sindaco così bello, magro... Federico Talessi dice che nella vita faccia un altro mestiere e non voleva confondere i ruoli, caro Nico. Ecco, ad ogni modo ha partecipato, ha portato una delegazione di sindaci di altri comuni... L'Avarone. Esatto, per comunque renderli appunto partecipe. Anche il comandante Castigliego, il comandante, pardon, maresciallo dei Carabinieri è stato presente e ben contento, anche per testimoniare la buona riuscita dell'iniziativa. Quindi quando si tratta di denaro bisogna stare attenti nella promiscuità delle azioni, per cui abbiamo in toto seguito tutti quanti i particolari. Ringraziamo anche Igino Sebastianelli, il gestore della struttura Locanda e Cappuccini, che aprirà a breve, insomma, ai primi di dicembre. Nico. Io vi saluto, vi ringrazio, è stato un onore partecipare. Saluto gli amici di Onda Libera TV e saluto te, cara Maria Elisa Rossi Casciaro. Grazie. A presto, grazie.